Nei film che interpreta in genere viene, per l'appunto, utilizzato come un cattivo anti-eroe, ma che Jamie Foxx l'ha stagato da Rick Marlon Bishop e la vita diaria dimostrò di essere un vero e proprio eroe pronto ad aiutare il prossimo. Jamie Foxx, infatti, ha tirato fuori un uomo dal suo camion in fiamme pochi istanti prima che il mezzo finisse avvolto dal fuoco. È successo vicino alla casa del premio Oscar della California del Sud, come hanno raccontato lo stesso Foxx e il papà del 32enne salvato. Il pick-up sarebbe finito fuori strada e poi in un fosso ribattandosi più volte e prendendo fuoco. L'attore ha sentito uno schianto della sua abitazione, ha chiamato il 911 ed ha corso sul luogo di incidente. Insieme ad un paramedico fuori servizio che nelle vicinanze ha rotto il filestrino del furgore tagliato al cinto di sicurezza ed è estratto l'uomo finito poco prima che il mezzo andasse in fiamme. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, cari utenti. Dunque, Jamie Foxx, un eroe appunto della contemporaneità, quindi un uomo veramente di grande prestigio. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti. e la visione, delle cose che sono st Every uno dei miei. A loro confinniere le scampi, delle cose che sono scartute e delle scurità.